E' ferma la posizione dei tabaccai in merito alla questione abolizione voucher, un servizio che rappresentava per la categoria una fonte di reddito aggiuntiva. Praticamente l'ente che fa questo servizio voucher si chiama Banca ITB, che adesso è Banca 5, se è un'unità banca intesa. Chi come me aveva la macchina tanti anni ha comprato questa macchina pagata miliardi di euro. Venendo poi che questa macchina offre una miliardi di servizi, cioè è la macchina che paga la totalità dei bollettini, anche il 90% che li abbiamo anche scritto a mano, fa ricariche telefoniche, bonifichici bancari, bollo auto, pago pubblico, fa tutti quei servizi. Però diciamo che tendenzialmente i servizi spesso e volentieri venivano copiati da altri tipo Sisa, Lottomatica o LIS. Quindi noi avevamo preso questa macchina per questo servizio. Cosa succede? Alla decadenza di questo servizio però il caone mensile, nel mio caso comunque di 55 euro al mese, perché ho acquistato la macchina ma molti miei colleghi pagano 110, 130, 150, 180 euro, questo caone va comunque onorato. E quindi magari gente che usava questo servizio per fare voucher adesso si ritroverà a dover pagare comunque in alcuni casi una media di 150 euro al mese, che per carità non sono migliaia di euro, però gira sempre le scatole, come sto a dire, e dovrà continuare ad onorarlo, dando sempre altri servizi, però dovrà continuare ad onorarlo.